Ovviamente i sani da Sant'Ordono è un posto santissimo, un posto più santo tra i tuoi figli, però questo è la felicità di tutti i figli, perché erano la felicità di Giuseppe. C'erano anche i due oratori. Un oratori è limitato proprio a questi santi. Quindi il fatto di ripresentarli nuovamente in macchina di questi immagini può essere anche i due simbologici. Il suo lavoro di una porta a fare un ruolo di Sicilia. è un buon abito schema. È un buon abito. Grazie.